Assessore Franco, parte il piano di Regione Lombardia per contrastare l'abusivismo nelle case Aller con l'impiego per la prima volta di vigilanza armata. Sì, diciamo, è un pacchetto completo che porta la sicurezza all'interno delle nostre realtà, soprattutto per quegli inquilini che da troppi anni vivono le vicissitudini di una situazione di sicurezza che a Milano sta diventando insostenibile anche all'interno delle proprietà come quella dei condomini Aller. Una risposta importante che va a sopperire una sospensione della legalità di fatto rispetto a certi territori dove anche nel rapporto con le forze preposte alla sicurezza c'è una difficoltà oggettiva. Noi non ci stiamo, abbiamo messo in campo oltre 3 milioni di euro dove accanto alla vigilanza armata H24, quindi atta anche non solo a dare un valore aggiunto di sicurezza ma anche a recepire tutte quelle che sono le necessità di chi la vive e la abita, c'è l'impotenziamento e l'implementazione degli strumenti di videosorveglianza che da persona che poi presidia hanno anche la loro utilità e soprattutto non dimentichiamo la verifica e l'ispezione degli scantinati e tutti quelli che sono islai con una continuità giornaliera che sono un deterrente importante agli primi approcci di abusivismo che noi abbiamo ormai dovuto constatare in questi anni. Quindi il tema vero è rispondere con la legalità, ripristinare la legalità e soprattutto evitare che chi in modo abusivo occupa e toglie l'opportunità a chi veramente ha bisogno della casa possa in qualche modo venire ripristinato un diritto necessario. Noi diciamo non ci fermiamo, non arretriamo rispetto a questo tema, è evidente che non lo facciamo a spo perché è una manovra che è prevista già per i prossimi tre anni, lo facciamo in un quartiere simbolo dove si sta facendo moltissimi investimenti milionari anche per il ripristino della qualità degli alloggi, è evidente che almeno quello che noi chiediamo a chi è chiamato invece a far rispettare la legalità che là dove noi segnaliamo situazioni che vediamo quotidianamente di spaccio, di abuso, almeno in quello intervengono visto che noi stiamo facendo una parte che non ci compete ma è di diritto per la garanzia e la tranquillità degli inquilini che abitano questi stabili da tanti anni e hanno potuto far vivere e far funzionare Milano. Primo progetto qui in via Zamagna a San Siro ma l'iniziativa verrà estesa ad altri quartieri di Milano. Già in previsione evidentemente se nell'acquisizione dei bandi e delle forze opportune per poter dare modo che anche da Lorenteggio ma da tutti gli altri quartieri di alta sensibilità vogliamo che passi un concetto fondamentale che ai furbetti, a quelli che occupano è finito il cinema, di poter fare quello che vogliono. Lo facciamo con delle nostre forze, ne siamo consapevoli ma c'è un altro valore aggiunto. Come ho detto non è a spot ma c'è una cabina di regia di Aler Milano quindi parte delle risorse economiche vanno ad implementare la cabina di regia all'interno di Aler che gestisce il tema della sicurezza. Lo facciamo, qua ci vuole la collaborazione di tutti e Aler in Regione Lombardia fa la sua. Non dimenticate mai che per quasi la metà degli alloggi che Aler Milano ha su tutto il territorio di Milano e l'esterno metropolitana si tratta di gente indigente che non solo non è in grado di pagare le spese di affitto ma neanche le utenze. Questo è un tema che andrà anche invertito rispetto a un dialogo importante con la città e il comune di Milano che ha il compito dei servizi sociali.